Ariete carissimi, c'è un piccolo cambiamento di scena nel vostro cielo. Venere assume un'orbita disarmonica. Questo non va a invalidare tutto il ben di Dio che vi sta aiutando in questo momento perché avete comunque Mercurio, avete Marte, avete Giove che vi danno manforte nel lavoro, però potreste perdere ancora un po' di più le vostre buone maniere. Questa è una cosa che potrebbe veramente portarvi all'autozebedectomia perché va bene essere vigorosi, avere slancio, spirito di iniziativa, però poi mancare di buon ton a volte può essere veramente un autogol, chiamiamolo così. La luna di lunedì e martedì è la migliore per rivolgervi agli amici, per rivolgervi alle persone che possono fare qualcosa per voi, per realizzare un vostro progetto, per farvi ottenere un colloquio, per farvi entrare in una cerchia che magari vi ingolosisce. È una settimana interessante sicuramente, anche con delle coesioni sudombelicali di tutto rispetto. Certo non saranno tanto zuccherose, ma chi se ne importa, basta fornicare e anche quello rilassa. Un po' di calmia e vedete che tutto andrà bene. Grazie.